Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio della stagione di Minecraft, il 23esimo, adesso controllo, sì, il 23esimo, sono certo. Questo sarà l'ultimo episodio di quest'anno, perché ormai siamo a fine anno, quindi questo sarà l'episodio dedicato al Capodanno. Quindi andiamo a vedere, sperando che la registrazione e tutto vada a buon fine, andiamo a vedere cosa succede. Nel frattempo vi auguro a tutti un buon anno, vi auguro gli auguri di buon anno, un buon anno nuovo, tra poco a brevissimo, oggi in teoria finiamo di editare il video di The River of Blood, terza parte, quindi a breve uscirà, col nuovo anno uscirà sicuramente, e andiamo a vedere cosa succede. Come audio ci siamo, iniziamo. Come audio ci siamo, iniziamo. Come audio ci siamo, iniziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un anno nuovo a tutti. Fatemi sapere nei commenti cosa avete fatto a Capodanno, dove siete stati. Saluto elettrizzante a tutti. Ciao!